Nel 2023 abbiamo fatto una sorta di rate call che deriva anche da un fatto successo nel 2022, quindi l'aggregazione del territorio bergamasco che ha aumentato non solo il territorio di operatività ma anche le opportunità di mutualità sul territorio stesso. Sono soddisfatto e credo che sia importante continuare con questa attività perché intanto è basilare perché è contenuta nel nostro statuto e poi perché è la nostra missione. BCC Milano sta esprimendo risultati importanti e quindi deve fare mutualità importanti. La fondazione che abbiamo lanciato in assemblea è nata anche per questo, per dare a questa mutualità una consistenza tale che possa durare del tempo e che possa essere rimpinguata in continuazione.